Ciao, benvenuto, ciao, 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 piacenza, voi presenterete le due giornate dove 100 ragazzi, 100 studenti di cinema saranno chiamati a fare la giuria, vedere film, scegliere quelli che dovranno vincere, assegnare i premi, capitanati da, ricordiamolo assolutamente Presidente di giuria, Fioretta Mari, super serie, ragazzi composti, lei non scherza, lei non è una di noi, no, lei è una forza della natura, è simpaticissima La vostra concentrazione sarà solo Fioretta Mari, Meri mi ha detto mi raccomando a Fioretta, no, no, assolutamente è un problema diciamo ormai per noi Fioretta Mari, questa mina vacante nel festival Come si fa a gestire Fioretta Mari? Forse con l'esperienza però riuscirà anche lei a capire come si sta sul parco, davanti alla telecamera Gliela vogliamo dare un'opportunità? Ma dimostrare qualche consiglio, qualche consiglio? Mi sembra giusto Fioretta, intanto usa questo accento, capito, tipico che ho io, italiano Non cadere in questa, capito La dedizione, la dedizione, non la sbagliare, mi raccomando Comunque a parte gli scherzi Quindi iniziare la pesca La pesca E andare a pesca Assolutamente Infatti non vado a nessuno, vado a caccia E mangio l'anguria No, questa esperienza, l'11 e il 12 insomma siete chiamati a presentare questo festival Sì, noi abbiamo presentato anche l'anno scorso alla Casa del Cinema, appunto una giornata, era una domenica Era una domenica Siamo stati tutti i giorni insieme, nel senso che abbiamo presentato, abbiamo presentato i corti e i lunghi Anche quest'anno sarà la stessa cosa, però sono due giornate, perché è tutto più ricco quest'anno all'interno del Cinecittà Poi quest'anno mi ha detto lo farete alla sala Fellini, col punto ti gele il sangue, non respira più Perché quando senti Fellini al cinema, Cinecittà, per uno che fa questo di mestiere, diciamo qual è il tuo mestiere? Non lo so, però tra le cose che faccio, diciamo che il cinema c'è sempre in mezzo Tra la produzione e la scrittura, perché comunque faccio da autore, da produttore della mamma film E lei conosce benissimo, perché prima o poi lavoreremo insieme anche lì E allora quando ti dicono Ti farà il provino, lo farai alla sala Fellini, comunque di emozioni Poi appunto essere dentro Cinecittà, che è, penso, non so, come il tempio Non mi veniva tempio, adesso mi venivamo 5 euro, per il tempio 5 euro Il tempio del cinema, ma non soltanto quello italiano, perché voglio dire Prima veramente venivano le produzioni estere a farle anche qua Adesso siamo noi che andiamo all'estero Capito, adesso si è cambiato questa cosa? Che dobbiamo fare per rilanciare? Per citare un film, c'era una frase che diceva Niente è morto finché non è sevolto Ecco, Cinecittà non è sevolto E diciamo che le speranze di farlo rivivele ci sono Anche perché comunque è attivo Cinecittà Forse non è più attivo come un tempo Però diciamo le speranze ci sono Basta credere secondo me nei giovani che Come diceva Fioretta giustamente Adesso scherziamo, ma Fioretta comunque si è un po' di esperienza Ce l'ha, questo lo devo dire Pochine? Sì C'è una voce strana che alleggia Somiglia a quella di Fioretta Somiglia a quella di Fioretta C'è una presenza strana È ovunque È ovunque Questa donna è nel mio cuore Questo sicuramente È per quello La voglio bene Fioretta ti amo, lo sai Quindi scherzo e basta Comunque quello che dicevo io Che basta credere secondo me nei giovani Appunto come diceva proprio lei Fioretta Perché i giovani autori, i giovani registi Che oggi non trovano le persone che scommettono su di loro Che finanziano i progetti Oppure che diano la minima credibilità o credenziale a un giovane che viene O da un'accademia o da percorsi personali da autodidatta Perché comunque ho conosciuto Ho lavorato con persone che vengono da Youtube Perché non avevano soldi per fare i loro progetti E adesso hanno fatto il grande salto Oppure ci provano Certo Tutto lì, dovete crederci Perché c'è città delle potenzialità infinite Mostruose Adesso sta girando comunque Non mi conosco Gabriele Mainetti Sta girando un film Lì la sua opera prima E lui ha esagerato Perché sta portando per la prima volta al cinema italiano Un supereroe italiano Non si è mai sentito un supereroe italiano Ma dai Sono delle chicche, cosa che non posso dire Non dico neanche il titolo Dico solo un boccalupo a Gabriele Gabriele, aspettiamo il supereroe Cioè basta questi supereroe tutti stranieri americani a Marvel Basta Ce la facciamo anche noi Cioè abbiamo anche noi sicuramente L'abbiamo una superdonna Sì Che secondo me Wonder Woman è la nostra eroina Supereroina italiana Eh, potremmo ispirare Mmm Buon'idea Comunque Emanuela è un bel duo Sì, sì Mi sei proprio ben assortiti Ve lo devo dire Diciamo io sono il conduttore tipo istituzionale Quello serio Pagato lei quella Invece comunque che La gazzara si può dire Sì Sì Quella Sì Che cosa dobbiamo aspettare Cosa ne vogliono aspettarci ragazzi No guarda allora Quando mi dicono Ma perché tu hai sposato Questa causa Ho la pausa sposato Infatti non sono sposata Ho sbagliato Ci vuoi raccontare qualcosa? No guarda niente Ho l'abito E mi hanno già fatto l'abito Ma non ho il marito E neanche il fidanzato Quindi anzi Questo potrebbe essere Magari utile Sì ma non è pronto 3-4-7 No Quello vecchio era 3-4-7 Questo no Va cambiato E quindi E quindi dico Ma ho sposato questa causa Nel senso che io sono naturalmente Onorata Di lavorare Certo Perché Insomma Mary mi ha conquistato Vabbè ma penso che lo faccia Con tutti Sì ha conquistato anche a me Si può dire no? No Posso dire qualcos'altro? No Colui che vuoi Basta che non esaglii Vabbè ma io Perché io sono così para dentro Capito? E quindi io devo dare Quella televisione Grazie È stato bello Quindi io c'ho un po' questa vena No Però Sia perché Io conosco Varie associazioni Mi chiedono Tante cose Come a tutti noi Che abbiamo un po' di visibilità Perché comunque questa cosa Però prima di Avvicinarti così tanto Ed entrare così tanto In una situazione Devi essere sicura Perché è un attimo Capito? Cioè se tu non sai esattamente Che cosa succede dietro Dove vanno a finire Quei soldi Certo Io l'anno scorso Ho visto questi ragazzi Li ho conosciuti Adesso li abbiamo conosciuti Anche i ragazzi di quest'anno Sono venuti Lì Abbiamo fatto insieme Un teaser Con altri attori Insomma molto molto importanti Famosi L'officina dei sorrisi Su YouTube L'officina dei sorrisi Andate guardate seguite Antonio Catania Massimiliano Bruno Antonio Catania Anna Falchi Fabio Troiano Fabio Troiano Io Io Dario Rolfi È vero E quindi Un po' per Perché insomma Per la serietà Perché vedi proprio Vedi la concretizzazione Di quello che è Vedi proprio Che le cose si realizzano Le vedi coi tuoi occhi E poi Perché io con loro Mi diverto da morire Altro che Cioè Nel senso che Dici una cosa di solidarietà Sembra che debba essere Una cosa di Ma io mi faccio Delle risate Che Solidando è proprio Il titolo giusto Altri Sganasciando Sganasciando E domani Domani Con Manuel e Tattilio Fontana Andremo a trovare di nuovo I ragazzi Della Kiko Sbender Andremo A fare di nuovo Da pubblico Questi ragazzi Che provano I loro pezzi I pezzi che faranno Al teatro Io quella mattina Io ci sono stata Pianto tutto il tempo Per l'emozione Mi ha detto Portati i fazzoletti Sì Però sono simpaticissimi Quello che noi Certe volte A cui noi non pensiamo E che sono loro Che capito Caricano noi Che danno a noi Che sono così spontanee Loro si stavano Erano tutti schierati Per suonare Perché stavano facendo Stavano facendo Sentire come suonano E noi eravamo tutti Seduti E io Insomma Ho fatto questo Un applauso E uno di questi ragazzi Mi ha detto Perché batti le mani Se non abbiamo ancora suonato Esatto Poi dovevamo tenere il tempo L'unica che ha sbagliato Era lezioni Ho sbagliato Perché non conoscevo la canzone E per alcuneri La riproverate Sì Anche loro Hai sbagliato Scusate Quindi te devi andare a lezioni Ragazzi La fico spende Abbiamo Attilio Fontana Che è un musicista Un cantante Il tempo Riusciamo a tenerlo Bene Lei fa finta E lui doppia Esatto Il doppiaggio Dovete fare Come si fa Quando lavoriamo Nelle fiction Non si fa mai L'applauso Quando una magari Sta parlando Perché se no Fai così Fai finta E poi dopo E poi lo mettono E' difficilissimo Non fare rumore E per me è difficilissimo Ma vi raccontate Come avete incontrato Mary Perché No Perché Cioè voglio dire Lei Penso sia L'anima catartica Della situazione Io ho incontrato Mary a Cinecittà Io ho incontrato Io non volevo dirlo Però si è capito Io ho incontrato Mary a Cinecittà Nella strada di Broadway Gangs of New York Proprio sul set Che meraviglia Io ero lì Ad assistere Allo spot di Fiorello Che stava facendo Uno spot con Baldini Stavamo lì Perché Diciamo che Inizialmente Con un gruppo di ragazzi Facevamo i giovani Cineasti Dell'edicola Fiore Ok Quindi stavamo lì A seguire Fiorello E passa Sta ragazza Con un gruppo di amici Mi fermano Sai lei e Mary È il presidente Di un festival Lì qua di là Così Io l'ho incontrata Per caso a New York E in realtà Era un via tuscolana Però La magia del cinema E adesso tornate A Cinecittà E adesso tornate A Cinecittà Che figata Diciamo comunque Sì Siamo un po' più vicini Di prima Sì Diciamo che Stiamo lavorando A molti progetti Importanti Quindi Il vestito In realtà Cioè Dai Dillo Non è che Avete il vestito Pronto per un'altra cerimonia Anche Vedi Esatto Va bene Ci sposiamo Ok Oh bravi Ok Ragazzi di figlio Ci sposiamo Il 26 settembre Questo non ricordo Per i primi due anni Me lo devo ricordare C'è un contratto C'è scritto Poi ho dovuto Un po' dimenticare Non c'è problemi Quindi bene Ecco E Fioretta Ha detto che Canterai in chiesa Per noi Ma cosa Non lo so Credo L'ultima Dei 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 C'è No Comunque Credo Ci butteranno fuori La cinicità Dopo questa esperienza Però per il resto Cerchiamo di viverla al pieno Quindi è la serata La notte degli Oscar Il 13 Che c'è la premiazione Notte degli Oscar Cosa pulminerete Ecco Hai detto una cosa Che mi piace Oscar Perché sul palco Ci saranno Le statue degli Oscar Originali Quelle vere Che stanno all'Academy Perché il maestro De Angelis Quello che le ha costruite Le donerà per quella serata Diciamo Che nessuno al mondo Ha mai avuto A parte Dal quad a piede Direttamente Arrivano a Cinecittà E mi sembra Che ci stiano proprio bene Assolutamente Si Vedi Qualcuno Qualcuno fa Il segno di approvazione Ragazzi Ed era qualcuno Che Si sembrava un pollice Fiorentale Classico pollice E ha fatto Il giusto dell'olio L'olio L'olio L'ha fatto Prima Ha parlato Il giusto dell'olio Che ci tiene tanto Quello solo io Io quando la vedo Dico Mi fiorentamente Un po' d'olio Mi piace troppo Se forse Sono americano Ma forse Forse sei un po' americano Si Perché gli americani Sta cosa Perché loro non gesticono Non ci non Quando recitano Poi non stanno Mancano senza soldi E noi invece parliamo Sì Loro manco C'hanno Ma vabbè Questo è un altro Particolare Mi piace Il gesticolare Mi piace Mi dà soddisfazione Quindi vi vedremo Allora Venerdì e sabato In veste di presentatori Lo ricordiamo Sorridendo Film All Sorridendo Film Festival Hollywood La sera dopo Cinecittà si trasforma in Ospita Hollywood Siamo così Cinecittà Ospita Hollywood Con le statue degli Oscar E invece la premiazione Ma mi impappino Ragazzi È l'emozione Perché la sono io Mi sono emozionata Perché mi state Elettrizzando E quindi insomma Ci dobbiamo aspettare Qualcos'altro Guarda Penso di sì Perché noi lavoriamo Sempre senza scaletta Quindi Anthony Pett Che è il regista Delle tre giornate Sta scrivendo Impazzisce Quando lui me la verrà Io la stacco La lascio dietro le guinte Come sempre E io E tu vai dietro le guinte Leggi perché Va bene Almeno i nomi No ma li impariamo Voce fuori campo Sono lungometraggi Quanti sono i lungometraggi? Tre lungometraggi Tre Quindi ce li La mossa del pinguino Scriviamolo Scriviamo Allora scriviamo Anche i registi Ci saranno i registi Me li sono stampati Adesso voglio vedere La mossa del pinguino Va bene Ce l'ho I registi Tutta colpa di Freud Tu ci sei Ma i registi? Il registi Tutta colpa di Freud Paolo Genovese Vai La mossa del pinguino Esorbia la regia di Claudio Mendolo Un grande Claudio Mendolo E vai Poi abbiamo Girola Girola No vabbè Lo so che Buongiorno papà La Edoardo Leo La regia di Edoardo Leo La regia di Edoardo è protagonista E tutte cose strane E tre sono? E tre No Assolutamente no Ok Vedi Su tre Su tre Se siete stati bravi Assolutamente Poi corti no Sono tanti Sono tanti Sono tanti Sono tredici corti Tredici corti Volete dire anche tredici corti? No Buongiorno papà Tutta coccola mia Freud No Quindi insomma Un sacco di cose Un sacco di film Di lavori Sì Film con un cast importante Una regia importante I cortometraggi altrettanto Altrettanto Non sono stati scelti Per il casto Per la regia Ma perché davano Un messaggio comunque positivo Su quello che è il tema Della diversità A 360 gradi Come diceva anche Mary Dalla povertà Biondo e Bruno Calvo e ipertricotico L'importante è che ci sia un messaggio positivo Del cambiamento Diciamo che vogliamo trasmettere all'Italia Dobbiamo cambiare Perché così ci fermiamo Esatto Qui stiamo arrivando a un punto di non ritorno Andiamo avanti E sfondiamo Iniziamo a imparare qualcosa Anche dalle persone Che noi consideriamo Un po' diverse Perché io Quello mattina Ma poi ho anche in casa Un familiare che vive con noi Quindi insomma Io imparo tanto da loro Tantissimo Perché forse siamo noi diversi In realtà Sì Perché ci sempre un po' di timore Verso qualcosa che non si conosce molto bene Perché non sai bene Come queste persone reagiscono Perché noi più o meno A parte i pazzi Che incontri Però comunque più o meno sai Come reagiscono Perché tanto ormai siamo tutti così Incanalati In un certo modo Con delle belle mascherone in faccia E quindi sai più o meno Che se uno dice grazie L'altro dice prego E invece Con loro non sai Allora è vero Effettivamente No Io penso che sia sempre Fondamentalmente l'ignoranza Che abbiamo Non voler andare a conoscere Delle cose Che non conosciamo mai Cioè ci fermiamo Non andiamo oltre E quindi Il male del mondo È proprio quello È l'ignoranza Qualsiasi cosa Tu non sai Ti fa paura Quello che non conosci Ti spaventa Se tu conoscessi tutto Saresti Piero Angelo Però Però poi iniziare a comunicare Anche in un altro modo Non solo con Non solo con le parole E quindi È vero Con tante persone Devi comunicare In un altro modo Con un gesto Con proprio anche qualcosa Che sei Sto facendo Sì è giusto Tipo così No è un momento Pausa pranzo Ragazzi No grazie infinite Per essere stati con me Grazie a te Lo ricordiamo L'ultima volta L'appuntamento 11, 12 e 13 Aprile Cinecittà Sorridendo Film Festival Con Emanuele e Simone Grazie E fan week a tutti Esatto Come augurio Andate tutti Andate tutti a fan week Sul sito diciamo E anche in streaming Ma sì Da per tutto Su Youtube Su Facebook E mi rado subito A fan week da solo Ciao Arrivederci Ciao Ciao ragazzi Chiudi qua Che Allora no Dicevano Sì loro il 26 E te niente invece Perché non vi si filano Ragazzi Ancora si trovo